Siamo il gatto nero, guarda eccolo qua, necciugia, necciugia Siamo il gatto nero, guarda eccolo Ciao a tutti, non credevamo mai da ritornare qui dentro un altro anno Pensavamo da ritornarci il prossimo anno, invece grazie a Enrico che è arrivato Enrico e Carlotta, grazie a Enrico e Carlotta che salutiamo Non è venuta però casomai un'altra volta, per sicure che capita Quindi grazie che siamo qui Quindi grazie a Enrico e Carlotta siamo di nuovo qui al gatto nero nel mese di ottobre Quando dicevamo che ormai è arrivato tutto al 2023 E' a ottobre del 2023, invece siamo qui nel 2022 o ancora Grazie Carlotta, grazie Enrico Grazie Enrico, grazie Carlotta Poi Enrico ha fatto un lunghissimo viaggio per venire qui Enrico è qui presente, solo che non si fa riprendere per privacy Quindi lo ringraziamo? No, per cose private insomma, al meglio Perché sennò dopo le persone c'è tanta malvacità Quindi già è tanto che ce ne temo pubblici noi Con tutta questa malvacità che c'è oggi come oggi Quindi da una parte non è che ha fatto sbagliare Quindi Enrico è venuto qui apposta per noi Ha fatto mille chilometri e passa E lo ringraziamo per questo Perché abita più o meno vicino a Gian Battista Abita nella pianura padana, quindi è distante Perché lì è bellissimo la sua Solo che è peccato che la siccità è dappertutto Non è solo lì ma soprattutto anche qui nelle Marche Adesso staccamo la live Adesso andiamo in live perché senza live non si fuori A posto, Andrea ha detto che non può Fa niente perché oggi c'è un impegno E non ci potevamo andare Andrea Gardini Ha detto giovedì prossimo che noi facciamo i pacchi natalizi E noi facciamo il video dei pacchi natalizi Quindi oggi niente Oggi niente Quindi adesso chiediamo a Enrico come fa a conoscerci Grazie a mia moglie che mi ha scoperto Carlotta chissà quale primo video avrà visto De nostro È sempre un primo video Se mi ricordo glielo chiedo Siamo curiosi Quindi è stata tua moglie invece sgasca Sì sì, 45 anni fa E quindi dove ci segui Enrico più o meno Lei mi ha detto guarda c'è uno che parla come te Vieni a vedere E te ancora mantieni un po' il dialetto da qui Ah no He detto guarda parla come te Quindi un po' ce l'hai là C'è un po' che Ma te quando sei andato via Quanti anni c'è? Io avevo dicevamo Vabbè, avevo dieci anni, non è importante, avevo dieci anni, vabbè, se non te crea potrebbe. No, no, sono cinquant'anni che siamo là, quindi l'accento ce n'hai poco, c'è invece un poco. Sì, sì, quando torno qui qualche giorno poi riprendo. Quindi Enrico è un nostro compaesano? Perché era originario qui delle Marche, delle Marche Macerata. Ma assomiglia come dialetto della donna di San Severino, ci muociò... Sì, sì, infatti. Infatti io sento quando Fabio Cerini che mi sistemava il camper quella volta, andavo sempre da lui a San Severino, prima che il telemoto gli crullasse casa. Pure detto, adesso c'è un'officina grande verso le montagne, vicino a San Severino proprio. La strada che va... A Castelremundo. A Castelremundo. Proprio quella strada lì, c'è un autovelo che se subito dopo c'è l'officina sua, sopra, in una cava. Ma dopo il ponte? Dopo il ponte, per varie... Il ponte quale? Il ponte di San Antonio. Il ponte di San Antonio. Sì, perché... Dopo il ponte. Sì, dopo il ponte di San Antonio, dove è che c'è la strettoia, che c'è la ferrovia da una parte. Eh, c'è l'officina di Fabio. Ma è grande l'officina. Si è ingrandito. Fortuna, perché sennò come faceva? Il telemoto l'ha proprio... L'ha distrutto, però lui si è ripreso. Si è ripreso. Si è ripreso. Perché ci ha avuto un'invettiva, è forte Fabio. E' un uomo bravo. E' fuori dagli schemi, capito? Si. Ce n'è pochi fuori dagli schemi, ormai. Siamo rimasti in posto. Si. Un somali. Si, si, somali. La maggior parte delle persone hanno i paraocchi, dei cavalli. Guarda, guarda dove sono matato la gatta. E no, mi sai che... C'è la gatta... Eh? Nero. Nero. Un gatto nero, c'ha? No, con il pelo lungo. Una gatta nero con il pelo lungo. Ma allora, cos'è una persiana? No, no. È una cacina. La ho presa da fila. Ho capito. A che fila? Quindi ti piaceva la rovescia? Io avevo una penina nera. A cin? Ma era piccola quando li freste? Si, proprio 35 per un giorno. Capirai. Dopo? Un blocchino così. Carina. Però a me mi piace i gatti. c'era morto quello vecchio i cani no? ci avevate il 6 mese per caso prima? no, no, un tigrato europeo presente quelli che ce n'è un miliardo? come no? anni 70? pepe ah pepe, come il cademi figlio? 15 anni spasava 11 kg enorme, enorme come chicco che era grosso si pure chicca alla fine quando c'era il colesterolo, diabete, la gatta mia è grossa no, non era grasso si, ha un po' di pancia quando sono sterilizzati tendono a fare eh lo so, lo so, pure il gatto de misurella no, era proprio grosso di ossatura no, no, ci credo il gatto romeo 7,5 kg il gatto de misurella quando ne morto aveva 4 kg da 11-4 kg c'era malattie si, sicuramente era un uomo ci vediamo e allora stiamo qui vedi la tenda del gatto nero adesso calcolando fuori fa un caldo bestiale hai detto che fuori fa caldo? no, non l'ho detto è caldo caldo è 30 gradi però è in aumento sì lunedì e martedì mette 35 quindi è la fine sì e poi su Tg5 anche l'ha detto è strano che lo dice su televisione no? che stiamo in una grande siccità la più grande siccità della storia mai della storia mai in Italia è stato un gatto guarda che breve i sugini all'ombra se c'è la macchina al sole quando entri dentro è 40 gradi questa è la città dove è mio figlio ah ah per l'asso ah ah che vei posti è caldo anche lì però eh per essere mezzo di anni per essere con la zona lì per essere con la zona lì se no di solito c'è tanta differenza allora Luca ti vado dapposto però te devi pochi sarebbe da metterlo là vicino però Enrico dopo ti dà fastidio metterlo là no no posso di qua te stai eh però lì Luca ha fastidio pure come si fa? qui se non ti dà fastidio no no vedi contro luce si vede poco però tanto niente non è ah perché c'è contro luce eh sì guarda fammi uscire al posto ho pulito l'obiettivo tipo trovate in essa mhm questa tenda nera a portarla avolta un po' di più ah pensiamo di fare i crudazzi da zio zio Ireneo si vende no non è possibile no no chiude lì non va qua no c'è il binario che finisce lì ce la puoi portare ma dopo si scopre quest'altra parte eh eh aspetta un po' lascia che sennò da roba a chiedere fastidio a quelle persone mi pare che è meglio mi sa che è meglio vedi che è meglio infatti è meglio hai sistemato bravo allora speriamo che Ricco gli piace tutto speriamo tanto a noi ci piace sicuro tanto sempre buono ma io sono di bocca buona ah sì si vede si vede che sono di bocca buona quindi non ti fai problemi sull'alimentazione no no dovrei dovrei ah ho capito grazie 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 che è stato mi pare con il finito ciò santo grazie Gesù che è venuto qui con noi grazie a Carlotta che anche se non è presente però come se fosse presente grazie Carlotta come se ci fossi qui grazie grazie Carlotta che stai su a casa e grazie invece al qui presente il tuo marito Enrico grazie cioè più che sta a casa è come se ci fosse che non c'è tutto da venire si Vedi che roba, se non era per internet Enrico non ci avrebbe mai conosciuto, noi nemmeno Certo perché con le vecchie maniere della consegna a mano Dice a Luca che i vecchi maniere nostri erano che io, le tasca mia, finanziavo le Le videocassette, prima le VHS le spedivo a tu Poi DVD alla fine, come faccivi a trasmettere? Con la videocamera a millimetri 8mm Prima la videocamera con il VHS però proprio pochissime Dopo il millimetri 8mm mettevo tutto il videocassetto E poi il tempo in cui tu registri, tutto quel tempo ci voleva per mettere il video Lo stesso tempo Lo stesso tempo Lo sai? Tante fatiche, inutile Finanziavo io, autofinanziavo per pubblicare le nostre produzioni su vie, indirizzi, a caso A caso, a caso, a caso, come faceva la buonanima di... A caso, però sempre in caso, nell'ambito della provincia Nell'ambito della provincia Sì, le distribuzioni a mano No, anche quelle dell'elettrico No, pure Milano Sì, Babbo stava all'hotel e mi faceva i lenchi telefonici negli altri posti A caso, a caso, quindi arrivava la roba e... Come faceva Raffaella Carà quando telefonava? Sì, si, si Scevano ad avere gli elenchi delle altre regioni e altre provincia Ci voleva l'alberghi Babbo, sempre fortiera delle notte Ha lavorato con tre alberghi Ma dopo, quindi qualcuno se gli storia... Sì, Babbo, fortiera delle notte Vanno bene? Sì Vanno bene? Sì Questo non è così Vosano, no? No, no, non si, però... Babbo, prima a Villa Pieta, a Monte Cassiapa, alle Cascia Sotto a Macerata Poi a Cristoforo Dolombo No, prima al hotel parco Poi a Villa Pieta, a Cristoforo Dolombo Cresce, no? Eh sì Sempre che notte Un periodo cortissimo, però ero te ero tanto Eh, ero stante Eh, quanto mi piace Il primo lo sta fermo È grave Ho la sciatica nella parte destra Mi riavano anche la piede In dolore, vedo le stelle Non vedo l'ora da via questa Non vedo Ma si allevia Sì 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 Fuga, dico Dimmelo Cerco di andare un po' a incrementare A che ora ti dà fatica? Io non ho problemi di tempo Ah, oggi non hai problemi di tempo? Sicuro? No, il problema non c'è più No, c'è un'impressione Però se tu ti dà fatica lì Capito? No Oggi no Oggi no No, è andato Lui è andato Sì Non so se andiamo domani o dopo domani Ho capito Per me il tempo non è più un problema È relativo Sì, sì, meglio così Dopo 43 anni di lavoro Mamma mia Quanti faticato Quindi faticato Se puoi dire, faticato pure la carrozzeria Sì, gli ultimi letalli Eh, di sempre Come indipendente per me Poi sì Ma cosa facevi tutto? Tutto Che facevi affatto? Sì, tutto tranne l'edriciare Ah Tranne l'edriciare C'è la propria d'edriciatore Sì, c'è un po' sta dicendo Andrizzano Per il resto che ti smontavo Ti volevo stuccare Quindi hai usato le ventose? No, che ventose Pendrizzano? C'è un altro attrezzo Tevalle Quindi dovevi smontare? Ah, le ma Ma, capito? Le mani, attrezzi leve È un sistema È particolare Le ventose Fa poco Tocca smontare tutto Dipende dove è il burro Tipo la mia, hai visto? Se è una zona dove c'è una nerva tua che è dura Non riesci Dove essere dove è morbido Ah, certo È un sistema molto particolare Invece per i graffi incisi Quelli profondi Quelli dei verniciattuti Carteggiattuti Se è venuto avere la narizia Sì Se no si guisca Una volta che te Mi hanno messo una bestemmia Mi hanno fatto cosa Quanto su tavolini Del copano Una bestemmia a Dio Usa le chiavi Graffiata? Eh, graffiata Che pensa Allora hanno dovuto Tu le ho viste io Le ho viste? Le ho viste Le ho scritte sulle macchine Sì Non le posso dire No, no Però che t'ha toccato a giustà T'ha toccato a giustà T'ha toccato a giustà Ah, ah Parole dette da sua donna Non sto qui a dire Ah, penso Lui pensavo che erano solo a me Le bestemmi sono Oh, non c'è i commenti oggi? No, non c'è niente Ah, non c'è niente Ma le arriva le notifiche Le arriva le notifiche Gatto Elio, guarda Non è ancora notifiche Ma di dove è il Gatto Elio? Di dove è? Torino Di Torino De Torino? Sì Il mio corregionale Corregionale, insomma Sì, Torino Però adesso Io sono 100 km da Torino Ah Ciao Gatto Elio Finalmente cucina il gatto abissimo Buon appetito Fa le tagliatende al sugo dell'agù Però ogni tanto vado a Torino Io sono il tifoso della Juro Ah Ho capito Ho capito Allora Adesso è tanto che lo vado Se non andavo spesso Allora con i figli andate d'accordo? Te lo aiuto? Eh? Mh 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 Pure Jonathan, eh Jonathan Bravo, ragazzi No, perché è il tifo Ah Il tifo Jonathan è l'agù Il nostro cucino Jonathan pure è spiegato che l'agù è Sì, no Io non so Esagerato Ah, ho capito Mi piace Mi piace Ora, emblema, buon pranzo ai cugini Ciao Salutato Enrico E grazie a lui vedete questa live E questo video Grazie Enrico e Carlotta Guarda Cattuelio, ciao a tutti Macero Io sono della bassa Italia Ma quando sono venuto da te stavo a Milano Invece adesso è vicino Roma Akira Morimoto invece è del Dorino Ah, ah, ah Allora mai Cattuelio adesso sta vicino Roma Sì A Latina Dove è dove lo sta? Cattuelio a Latina Diceva Diceva, sì C'è Cristianai se no abita lì Ma lui però è originario dell'Illa Tuglia per fare? Eh, a lei l'ha detto Eh, salutiamo Enrico Michi dice Comunque invece c'è un certo Alberto Che vuole assolutamente Che andiamo al McDonald's stasera E ci vuole da offrir Una promozione che c'ha lui Ha detto che c'è tenso a lui per noi E lui non spende niente Vorrebbe niente Vorrebbe darci assolutamente Ha detto Io, io possibile Non ce lo fa niente Come no? No, oggi no No, no Ma anche l'altro Dugino? Vorrebbe Gatto Metano perché Enrico non lo potremmo vedere? No, lo potete solo sentire No, lo potete solo sentire Vedi, io mi sono perso in chiacchiere Voi invece siete stati zitti a mangiare Invece io parto e mangio poco E mangio piano Masticare piano Eh, me piace a me Masticare piano Mi piace a me Masticare piano C'è per esempio John Pandolfi, un utente che è dal Giappone, dal Giappone che me segue sempre. Ce segue, ce segue quando c'è Luca. Ora un po' c'è Dani, ciao Dani, ciao Dani, grazie per il buon pranzo. Comunque ho fatto caso che le tagliatele di una volta, che non c'erano i disegni, non le fa più. No, per esempio, per te, a ragù non le fa più, ma forse non saprò. Allora, guarda di questo, la mia borsa è il buon pranzo. Oppure il menù cambia giorno per giorno? Sì, lo ricordo. Cambia il menù, non so. Sì, ogni giorno cambia quella cosa. Però, vedo, ad esempio, l'ultima volta che ci siamo stati ha chiappato lo stesso buon. È vero? Sì, c'è il buon pranzo, lo ricordo. Te lo ricordi? Ah, te lo ricordi? Sì, il tagliatele. Eh, sì, sì. Ma meglio di una bocchetta è chiappato lo stesso buon. Matteo, cos'era, a cou di papera? Non lo so. No, no. Alberto, Matteo, ciao, buon appetito. Tanto no, da noi venite a dire, i giocatori hanno 5 menù, si avvergono, se c'è una pozzia cennavo là, se vuoi. C'è da avvertire a Gioneta però. Eh, c'è da avvertire a Gioneta che non se lo aspetteremo. Comunque oggi sarebbe lì per il giovedì. Vede, me la vediamo. Oggi sono Luca. Bim, porti da casa, se mi vuoi mettere il piatto? Si, non è come è tipico. Vabbè, Martè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. I piatti dei cazube dove erano? Eh, dei cazube. Si, si, come i contenitori dell'amon corporese. Dei cazube. Guarda. Eh, pozza di mamma, belli ragazzi. Anche oggi il Gatto Nero, per voi, io un tozzo di pacco e cipolla. Eh, ma no, bea di no. Grazie a Enrico e Camilla, eh. E Carlotta, scusa. Carlotta. E era Camilla, però c'era una Camilla. Si, c'era, però. Era il cane del Satur Cinque. Eh, non mi ricordavo adesso. Carlotta, scusa Carlotta, non ti offendemi. Mi sono confusa con lei. Ah, ah. Eh, c'era. C'era la idea. E' una foto, la faccio vedere. Il Satur Cinque, oppure era ancora il regionale suo. Vabbè, ormai l'arietto del Piemonte. Da non dirlo. Il Satur è partito a fare i video. Il Piemonte è tanto grosso. Il Satur Cinque è partito a fare un sacco di video su Youtube. Quindi stanno due persone, due però originate in Marchigliano, va bene. Però due persone comunque dal Piemonte apposta per noi. Mmm. E' una cosa grossa. Se non era per internet era impossibile. E' vero, era un fatto impossibile. Allora Dani, e poi lui mica ha fatto vent'anni di video. Quello che mangia il pà è cipolla. No, no, certo, certo. Allora tu, Nermateo, ho una tua VHS. A quando posso rivederla ora? Verrà un casino di quadrini. Ma quali quadrini? Rivederla perché se vende, non c'è ancora un mercato se c'è. Che salva. Ma c'è ancora un mercato. Vedi, avete finito molto prima di me. Vedi, Gattueli dice, lui che mangia sette pasti meno al giorno rispetto a Franco Girardelli. E' un'anima. E' un'anima. Ma otto. E' otto. Mamma mia, le ma' piaciuto. Ma te, di quant'è che sbagliano le tue donne? Da ieri sera. Eh, ti dici, tu andavo all'autogrill che costa dieci volte di più. Mi pare qui. No, dieci no, però il doppio. All'autogrill costa più di più. Cioè devi piacere l'autostrada per la cena. No, perché ieri sono un po'. Ma tu c'è doppia l'autostrada ieri. Ah, ora c'è proprio una porchetta. Quei proprio porchetta stavolta. Eh, ma dopo te lo dico fuori dalla video. Ma questa non ti piace anche a te. Eh? Non ti piace questa, ma quello che mi piace. Eh sì, però può essere quello che mi piace. Eh sì, però può essere quello che mi piace. E' carina. Ma l'altra volta non era proprio diverso. E' carina, mamma mia. Ho capito. Mamma mia. E' tutto il pelo, il pelo tutto forte. E' bella, bella un bel po'. Più bella di quella di prima. Mi pare. Questa è Gabriele. A Gabriele ti piace questa cosa? Sì. Eh sì. Strano, guarda. A me è il condimento. Però se no... No, basta che non ci sia troppo finocchio. Eh, finocchio. Un po' ce n'è, ma ce n'è. Scansi. Matteo, cosa ne pensi della chimica meccanica introdotta nei cellulari? Eh, niente, non mi penso niente. Alberto, ma se ci vuole andare anche solo tu e lui, è un po' da per me, va bene uguale. Anzi, così mangiatevi più Luca. Già che sei con Luca, visto che lui sa tutto di Città Fiat, è bravo. Puoi chiedergli in che via è il McDonald's, se è in via Paolo Bozzellino 2. Sì. Così vi sponsorizzo il posto giusto e non in uno sbagliato. Forse mi hai risposto, ma non ho capito. Allora, sì. Allora, quello del Porto dei Canati, comunque? De Loreto, mi sa. Via Paolo Bozzellino 2 Loreto, sì. Quello di Loreto? C'è un po' la carta appena arrivata. Ah! È appena arrivata. È carina. Guarda come gli vuole bene, se vede. Cosa sta con la bocca? Gli ha aperta la bocca la gatta? È la bocca aperta, guarda. Gli ha aperta la bocca, è piaciuto con la bocca. Si vede chi vuole bene. Si vuole la carta. Ah, addirittura. Prima il gatto, prima il figlio con la carta. Per la mineta, per ultimo. Ah, sì. Comunque va, va che appena molto bene questa. Eri, guarda, non c'ho messo la forchetta niente, se non te fa schifo, lo vuoi in pezzo? Sì, dai. Dai, dai. Tu pensavi, te hai fettato io? No, te, te, te. Facendo con la ciotola. Eh, così senti un attimo. Mi spiaggia. Ma poco, quello? Eh, poco, più di un attimo pezzo. Te basta, solo te assaggiare. A te, ma te non sa che vede l'occhio, però... Eh, sì, sì. Buona, buona. Me le porterò via un po' da prendermi la sua. Perché sono te. Così. È tipo affettata. È tipo affettato. Matteo dice, Matteo, oggi ci mette qui, mi hanno detto che il medico è il patroto. E' proprio il maggio. Leucemia fulminante fatta con lui. E certo, Matteo. Certo, te lo consiglieresti un dato. Ma lo faccio mettere sotto vuoto. Ma lo faccio mettere sotto vuoto. Così si mantiene. Come se fosse appena fatto. Alberto, c'è un altro McDonald's. C'è un altro McDonald's. C'è un altro nero. C'è un abbondanza. C'erano tutti. Dal mare a... Alberto, quello è quello qui c'è. Io vado su un lago di Caffa. Ah, no. Su un lago di Caffa. C'è un banchetto la domenica mattina dove vanno i cacciatori. Lì c'è le porchetta profili. Buonissimo. C'è... C'è questo? Del condimento. Sì, sì, è buono. Sì, sì, è buono. Stegliato a proprio effetti che fai i banchetti per il cacciatore. Ah, no. Eccezionale. Buonissimo. Ce credo. Luca, vuole dire, Alberto, vuole sapere, da te vuole sapere, se ce n'è un altro McDonald's è uguale più o meno simile vicino. Quello del... Cosimo. Cosimo stazione, però da la stazione Loretto, quello di Loretto è più vicino. Sì, sì, sì. Eh? Cosa ne pensa, Luca, della pizza all'Aganas? Sì, 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 sì. Manco io. Però l'Aganas se ne piante. Pozza del mammo, con chi siete a pranzo? Se può sapere, c'è scritto nel titolo. Con Enrico. No, Alberto, noi già abbiamo deciso da un bel pezzo dove abita Daniele Andreani a Porto del Canale. Allora... Che fa vuole sapere quanto costa il pranzo? Qua, questo... Qua, questo... 15 euro a testa. Menù turistico, prima costava 13, adesso 15. Vente buco, massimo 70 persone, un minuto, pausa è troppo. Troppo. Oh, Dani, Luca, ti ricordi? Ah, yeah, eh? Sì. Dani, puoi mettere la velocità minima nei commenti? Sì. Se vuoi. Quale è? Eh, non lo so, lei è un minuto, è troppo letto. La gente vuole scrivere, capito? Se spazientisce diventa haters. Vedi, emblema Matteo, un po' rosse, viene gianta, almeno racconta le barzellette, è troppo simpatico. Vedi, Pozzo del Mammo, da Bergamo è rito, è venuto per offrirvi un pranzo, è una misè, manco fosse una uzziglia. Non è da Bergamo, dal Piemonte, perciò. Da Nuara. Da Nuara. Da Nuara, sta forza per noi, eh? Vedi, forza del Mammo, se era per te, potevamo morire e suscitare. Eh? Bisogna che io domandavo un altro po' di qua, perché, però le fattate, che vuole, qua. Tu hai il cavolo, non c'è? No, 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 no. Don Zey, per Matteo questo è l'altro. Don Zey, anche io vorrei mangiare con lui. Con chi? Con Enrico? Matteo lo conosci? Vai. È rilieo. Paolo, come se non devo lo farvi per questa sera, per il video? Per domani, domani. Questo o per domani? Paolo. Come dite? Allora, Gatto Metano, hai mai stato alla Calabria? È certo che ci sono stato? Sì, sì. Sì, sì. Sono stato più di una volta. Eh, più di una volta io. Non solo con Andrea. Io con Andrea. Faolo, grande Matteo, l'altro giorno dicevi che il prossimo pranzo del Gatto Nero era tra un anno, invece quando meno te la aspetti arriva la sorpresa. È vero, Faolo? Sì. Sì, è vero. Dilo, Luca, a loro, a questi qua, a chi è che è stati, a farci venire qui al Gatto Nero. Allora, coloro i quali sono stati a farci venire al Gatto Nero sono Enrico e Carlotta. Enrico? Dall'idevo in Carlotta. Però lo vedevi pure qua, perché se no mica te senti, è sordi. Matteo, buon pranzo il Gatto Nero. Sì. E' buono, questo è il pranzo turistico, capito? Dopo se uno vuole la carta, poi mangiava, dove vale? Cristina, ciao, grazie. Faber, ma con chi siete? Con Enrico. Eh sì. Ciao Matteo. A Cristina dimmi un eterno riposo, perché è morta la madre l'altro giorno, tre giorni fa. E eterno riposo, una cosa, ma se ne vedete, non c'era bene, non c'era bene, non c'era bene, non c'era bene, non c'era bene. E fa tutto 5 artigianali, senza un spezzio. Bene, non c'era bene, non c'era bene, non c'era bene. Enrico non lo manco, non lo manco, un po', un po'. Ho visto? Poi ci sono le patate. La regola delle tre pinche, lo sapete? No, non impassa. Le patate, e le patate? Non ho mai mettete insieme. Non lo sapevo. Oggi sono i prosi. è simpatico e ricco si capisce subito è affabile, è simpatica dallo sguardo, dagli occhi è ricco c'è ragione però oggi è un'eccezione oggi si può fare è ricco di solito a casa non puoi mangiare tutte e tre le cose però anche se dice si mischiano con la pasta non ci mangio se no le patate non ci mangio il pane allora tutti i zuccherini ciao signore Grecio a voi tratti signore Grecio saluto a Luca e poi ognuno lo fa come il pane si 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 se si 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 No, ma qui è tutto da poco, è una cosa più da pianura padare. C'è il marito della cucina Enrica che mangia il formaggio con i bigattini, vive? No. Eh, quello è. Non è quello, è un altro, io mi confondo sempre. Quello con zona c'è la muffa. Vero? Mettono dentro dei ferri e gli fanno le muffette. Quando fanno la forma, infilano i ferri, quei ferri si ossidano e fanno una muffa. Ah, ho capito, è una muffa, è una muffa. No, io ho parato, ho parato, ho parato già. Cosa c'è se mette sopra, il miele? No, niente. Con la pizza, con la pasta. Come condivide? Ho capito. Mirko, la polenta. Ah, vuole essere così rosa. Invece il zio Mario ci metteva le, sopra la pasta, la carbonizzava, ci metteva le, quelle, i formaggi, no, le codiche, i formaggi per i fini, le sottilezze. Ah, le carbonizzava, poi ci metteva le sottilezze. Mi ha pure dei cocchi che ci metteva. Eh, sì. E' un giallo, amante di carne. Non ci ricordo, c'è quella di carne. Oppure lo stocca a pezzo. Lo stocca a pezzo, eh. Ti piace? Jack Black, cosa vi state a mangiare? Il maiale. No, perché le carbonizzava quelle sottilette? E gli piaceva le carbonizzate. Vedi, alla fine è due piatti, alla fine, vedi? È due piatti. È due piatti. Dunque, una volta le passate erano il doppio, ogni porzione. Adesso è venuta l'altra. La patate. È fredda. È fredda. E' fiercissimo. Adoltre, alfranzia, mi manca la patata. È fredda. Senta, è frisco? Il pane, però, è fresco, mentre è frisco. Crucante. Benveno. La pasta è buona, il secondo è buono. Adesso, uno e patate. Ora Charles dice Luca tu pensi che Matteo sia il peggio o dicemi peggio perché c'è un utente che si chiama C'è di peggio che mi fa sempre il ride, una volta al mese mi fa ride per 200 persone però ci stanno 2-3 minuti perché una volta che vede da me un po' si sparisce. Allora c'è di peggio si chiama allora ti chiede per te Luca tu pensi che Matteo sia il peggio o dice di peggio? Si quindi dovrebbero segui tutti a me giù? Il problema Matteo qual era il cibo preferito del mammo? I spaghetti carbonizzati Tu era un marinaio, uno scetto marinaio Poi Enrico magna eh? Non ce ne va più? Non ce ne va più? Faci? Mio moglie doveva mettermi la dieta Oggi fai l'eccezione Serà, serà niente Dai Un pasto al giorno? Per quello che faccio è troppo Non ce ne va più? Non ce ne va più niente? No Però se quando vai in tercampo lo vuoi mangiare No, no, non ce ne va più No, non ce ne va più Si Michi cucinava per tutti Chi? Il mammo Stava in marina Ah in marina? Si in marina stava in cucina e cucinava per tutti Però quella volta avrà fatto bene Cucinava bene Vedi per umano che felicità vedervi al gatto nero Eh oggi io guarda se non mi doveva lasciatica ero più contento Purtroppo il dolore è tanto Però pazienza, non è più che Luca un grande bevitore d'acqua Una volta in montagna si è bevuto 4 litri d'acqua 8 panini, 4 litri Dicono per Counter Detectare E poi faccio un test desistirte del cazzo che non fugi una sega Spero i nostri nonl durabil buyersono il mio linguaggio sporine Da inferno tantesco Ed è piavea ver Alcicumore Il concetto grave è le quanto troppetta, come Manuel di Trentino. Mamma mia, è forte Chambres. Tutte parolacce. Però un conto le parolacce e un conto le bestemmi. No, ma sono le bestemmiate. Eh, perché io ho visto, pure io, sai che ho visto... Ma a parte per il fatto del ritorno, ho fatto il ritorno. Certo, certo. Ho visto dei genitori che fanno le bestemmiate, i figli piccoli dei due anni, tre anni. Prima che parlano a parlare, ho già bestemmiate. Eh, lo sai. Ma qui è molto... Molto comune questo qui, è una cosa. Ho uno zio, ce l'ho dicendo, ma tre parole e ho fatto bestemmi. Su, no. Ma il dolce, no. Svallaghi. Ma è vero che il gatto necciuccia non ha più chiuso solo per permettermi di venire a mangiare e fare un performance. Quanto è? L'ho dicendo. Prendete. Oh, vero. Prendete. Mio, non sappiamo noi cosa cucinava il zio Mario? Dove? Quando era in marina. Vuole sapere come si cucinava, i marinani? Non era sulla barca, però il mammo cucinava nella caserma della marina militare di Messina. Dove andavo pure a Taranto? Prima a Taranto, poi a Messina, non sulla barca. Era un marinaio di tè terrestre. Bagnate il mio capito. C'è l'olio, però è buono. Se te la senti, ti dico proprio se sei sicuro, non metterai mai. Passo. Passo e chiudo. Ah, va bene. Avevo chiuso qui. No, magari se c'erano due dici sgrassi. Magari se c'erano due dici sgrassi. No. C'è, c'è, quelli te piace? Eh, i quincitrassi. I cannelloni te piace? Sì. Ma non ne ha fatto i peraziononi, i cannelloni, no, i quincitrassi? Non ne ricordo. Però non c'era loro, c'era un'altra gestione. Beh, però se io dici che fanno, no? No, non lo so, sicuramente la carta te li farà. No, non lo so, ce ne ha piaciuto la lunga fra quel dici sgrassi. Capirai di farne tutto? No, non è nemmeno tutto. No. No, ne ha piaciuto la lunga, no? Perché non è. La pasta può perne giù. C'è un demoturistico da dionea là su. Però è piccolo cucito, non c'è sgrassi. E ti tocca appiare la lente di ingrandimento. Non fa come mezzo a die. Lo mani con il naso. Va bene, il cestino non si mangia. Non lo so, il cestino è troppo silenzioso. Mario Marzioni, ciao idoli. Io vi sto preparando due chili di ragù, 800 grammi di macinato, un litro di olio e un litro di mezzo urlo. 20 grammi di erbio, se vado a mangiare le castagne, pagate un'altra pionta e mezzo, poi torno al lavoro. Ma miseria. Non è un problema, quindi ambedue, te e Luca, avete baciato i piedi del presidente che ne sapeva di Burotalco e Cacio Cavallo? Sì. Sì. Don't say. Giusto a proprio vedervi mangiare. Jonathan mangia tutto come voi? Jonathan, poco, poco. No, no. Luca, essendo ragioniere, sa quanto ammonta una piotta e mezzo? No. La piotta a Roma dice che è 100 euro. Una piotta una volta si diceva che era 100 mila lire, ed è 100 euro. Sì. La piotta e mezzo è 150 euro. Iperumano, se Jonathan il Gatto Nero sarebbe come un'apparizione della padronina a Castelfidardo? C'è stato però un monta. Eh sì, però ha tutto che fuga, eh, le mie. Poi era caldo, mamma mia, quanto era tanto. Luca, essendo ragioniere, sa quanto ammonta la cifra? Eh, l'ho detto prima. No. Abbonati così senti tutto, non senti le pubblicità. Salve, se a ragioneria non mi insegnano la convenzione più 8 euro, è malpassato il tempo. Pi 8 euro. Che cavolare. Che cavolare. Se fammi scherzare. A posto, il plato è già finito e Riccardo, bella la camicia degli ucchi anni Settanta. A posto, è finito qui il pranzo? Sì, è finito qui, mi sembra surreale perché siamo arrivati adesso. Caffè. Eh, di caffè. Non è compreso però. No, 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 no. Non è un euro e cinquanta forse. E' tanto? Prima o meno? Lì pure è assoluta zara. No, io ho senso riso che ho messo a fare il paffè. Ma sì? Sì, eh. Ah, quindi devi mangiare il paffè. Sempre? A casa quindi c'è la macchina? Per il rito, lo prendi corretto per caso? No. Di solito sì, come oggi. No, va bene, va bene, fai bene. Perché è il corretto del solito? No, 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 io volevo chiedere perché... Ma non bevete anche il vino? Non bevete o bevete? No, ma no, 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 no. Solo proprio nelle feste e occasioni particolari, capito? Se no non... No, no. Io ho casuale un po' di birra, laggiù la bottega di misurella, laggiù che c'ha la bottega, no? Del marito. C'ha la bottega della birra? Sì. Ah, sì. Ah, sì. Io l'alcor? C'è sin da dove mai? Niente, no. Laggiù c'è sin da dove mai? Eh, c'è sin da dove mai laggiù? La cottega? Dov'è? Da giù l'acqua viva L'acqua viva Eh, magari più di capito Ho passato al giro Vabbè No, adesso ho alcol giro in macchina No, no, infatti Poi fanno anche giallo Infatti Ah, no, il caffè si lo vediamo Vabbè, grazie Allora, l'emblema lui Vabbè 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 Allora, Luca Vorrebbe mai a mangiare un yucane tipo giapponese, cinesi? No, perché già soffiarono così i piatti portati Quello lì Non mangiare da questo male E infatti Quello lì Yucane Alle yucane Alla giù in Ancona Quello che poi mangiare quello che dovrebbe fare Da questo male Ma c'è Eh, no No Bisogna ripararsi sul cibo Sì, infatti Un po' Eh Madre Teresa che calcutta, eh Che mi sto in ritardo Eh, non sei in paradiso, Madre Teresa Sei venuta giù la terra Come lo vediamo Come lo vediamo Del paradiso Segue Pure dal paradiso Madre Teresa Mauretto invece lavora? Mauretto lavora? No Non lavora? No, è all'inizio Ah, giusto Giusto Sì Ah Chissà Mauretto adesso dove sta Sono le 14 Forse sta riposando Sì Sì Tutte la bottiglia della piccola Dom's day Eh Magari fanno Una live No Facciamo Più che live Un incontro Un raduno Un raduno Facciamo un raduno Però stavolta non le porto le magliette Si è aumentato i prezzi per le magliette Eh? Aumenta tutto Si è aumentato i prezzi Pure da staffonare Quanto vuoi le vedi? Eh Sì, apprezzo al pubblico 15 Eh? No Però a me vanno Pure a me Sì Basta no? Me le compro per me basta Chi è che le vuole le compra sul Tostador a Matteo Montesi Certo Eh Perché a me mi è stato detto no? Chi è che voleva venire a raduno Ha detto Matteo porta 20-30 magliette Eh Che le venni tutte Sono andato giuro per il 25 Ahahahah Tutto il resto ho capito? Ci ho rimesso Beh, dopo le ho dovuto regalare Dopo le ho dovuto regalare Perché non me le piace Dopo le ho Hosomani Dopo le ho vengono comprate Che lo hai comprate Dopo le ho vengono comprate Dopo le ho regalate Noi mi fanno buone Certo Non è basta Che roba Io non mi ricordo manco più Se l'ho presa o no Questo è incredibile E perché non hai comprata la mezza? Ma la hai legata E che l'ha acqua perché ho sbagliato oggi ho sbagliato oggi non mai scontro perché non fanno più i video oggi ho sbagliato come è questa sbagliato è pagare oggi ho sbagliato è sbagliato è sbagliato 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 eh infatti vogliono una maglietta allora quando tornerete a intervistare i calvini quando ci chiedete a farlo a novembre a novembre ormai a novembre perché ci saranno i pacchi natalizi per umano ci saranno i pacchi natalizi Gianluca quando le live nella cassa quando vado da Ruffini da Ruffini che c'è un magazzino di cassa farò una live lì basta che prendi la lì grazie sì perché ho detto che farò una live memorabile in una cassa da morto però devo dare a Ruffini di più di dentro di Ruffini che di Alberto che c'è un magazzino no mica mi chiudo dentro sto aperto come Dracula che dico è vero c'è poi c'è poi mi fai entrare mi fai entrare nella cassa mi fai entrare sì è un amico che le vende capito così è fregato per algo no 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 per algo non credo non lo metterai per algo solo una live un video capito un memorabile che rimane nella storia non vedo l'ora sì però mi piacerebbe a mettermi in giacca e cravatta eh certo è un morto è un morto infatti dopo a recitare è un gioco di Leo eh a me gustaria a recitare usare un per la cassa da morto disteso colco con le mancucine ti dici Rosario da solo eh mi piace molto Alberto ti ha scritto su Instagram va bene va bene Alberto ti ha scritto su Instagram quando puoi leggi per favore va bene Alberto dopo però quando staccamo la live adesso va più al caffè piano piano con Enrico qui e Luca peccato per finire tutto subito in un attimo se sfuma tutto è come una casa per tirarla su che ci vuole un anno per buttarla giù basta una bomba a questa giù tutto in un successino in un terremoto eh eh la scacione è incredibile come è successo a Camerino eh io c'è sul lato la sua faccia la video con i pompieri i militari pompieri però tutto giusto sì tutto giusto ancora mamma mia qualcuno è messo in sicurezza qualche viaggio la possi fa però niente di che non lo ricordo il terremoto quando era un terremoto quando ero qui che abitavo qui quando abitavo qui nel 97 abitavi no 50 anni fa io nel 1972 ah eh perché quando abitavo abitavo 12 anni allora lo conoscei a Cosby a quello ma quindi di elementare il ristorante da Sandro da Sandro sì andavo sempre io sempre a Magnaza mio figlio quando ha rubito ti pensa voleva voleva vendere l'hotel un milione di euro ha trovato ha trovato uno che lo comprava e lo stava a comprare per un terremoto lui ha lasciato l'anno prima che è venuto il terremoto ci ha lasciato però io ero lì ero l'anno prima ma è riuscito a metterlo perché io capivo ho saputo ma ero fatto ha preso di giocare di questo eh sì perché praticamente qua dentro è vicino tipo cerco lì allora le voci non è vero la licenza l'attività 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 perché è un'attività via anche a prezzi contenuti con una cesta a noi mi piaceva mi piaceva cioè ma tu ci sei stato da casa da quando sei nato fino a dieci anni io fino a dieci anni era tanto buono quindi hai fatto l'elementare e la calzata fino alla buona la scuola la vecchia scuola quella che ha morto poi dopo ti devo dire la parte della richiesta veramente ho comunque non scritto quel monumento del castello mi dispiace che non assume nessuno per l'indicazione ci ha raggiunto nel video che mi ho fatto al monumento che mi ho detto un messaggio che me due ne assurde e comunque me due assume il sistema casa fammi ci abitare come custodio invece niente sindaco zero quelli del monumento qui tu parlo non lo sapevo guarda sono contento mi fa piacere sono contento bradillo se no la gente te ce voglio le magliette e tu prendi solo quelle ordinate no no nessuno me le ha ordinate libero madre e no miseria sarebbe vendo se qualcuno riuscisse a sponsorizzarmi in viaggio per andare a Venezia visitate le tombe antiche sarebbe bene le tombe a Venezia a Venezia c'è le tombe attivite ma le tombe a Venezia sott'acqua 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 emblema ma te in una diretta della casa da morto si vedranno le froce del naso stile zombie sì una stretta andrà più l'altra infatti perché tu c'hai la froce più stretta no perché i morti quando stanno all'ubitorio te li vedi per laterale capito per laterale come nonna vigina e tu guardando il naso c'ha sempre una narice più stretta andrà più l'altra ma quella è questa quella è la prasside quando uno muore è sempre uscito sindaco assumi Matteo eh sì te pare Gesù e Matteo cosa avete mangiato? tagliatelle tagliatelle al sugo di teselli al sugo del gatto bianco la porchetta la feta della porchetta e patata rossa e per umano che se farò anche il video quello è memorabile lo devo fare in tutti i tuoi canali nella casa da morto adesso ti metti d'accordo di lui? sì mi metto d'accordo di Dilberto ma lui ancora c'è di lui? non serve c'è il magazzino vicino a una bottega della Pira c'è un magazzino di cassa da morto il doppio di questo ma Ruffini come sono i Ruffini lui non si era tolto dall'impresa si si è tolto però fa rappresentante dei cassa che quello non finisce mai l'attività allora è un socio suo invece portare gli svanti eh lui fa le cassa l'altro porta gli svanti non è che le costruisce lui le compra bene lui le va piante e le fabbriche invece la Coffins no? abbandonata abbandonata quella ci sarà qualche cassa di morti non stava a contattare i padroni puretti però quelli è morti era tanto vecchio una volta mi voleva inassume a me però mi davano poco il contratto era un contrattaccio era un contrattino capito? ma era una musa 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 beh me voleva fare un contratto a tempo determinato a prova dopo indeterminato capito? quindi il contratto non era male però voglio dire che il contratto era sul legno il legno non è un metal meccanico ma non erano i fuori legni fuori colato della gilea? sì ma lì facevi 12 ore al giorno e poi dava di più e invece il metal meccanico mi dava di più non mi convenia andare lì perché ho fatto due conti era meglio che mi convenia ma ne indossavo cioè? alla gira ah la gira alla gira alla gira youtube manco sapevo cos'era una volta youtube nel 2006 no? eh sì no 2005 è nato in Italia e te? io nel 2006 il primo video sperimentale eh sì lo farai per Halloween? eh dipende se riesco a contattare a Cosoli no? a Ruffini a Ruffini eh se fatto una limosina forza da vendere le casse quello è un lavoro che proficuo capito? Matteo mettere i piselli nel ragù non è più tutta pure rima ma non è un ragù non c'è la carne è un sugo è un sugo vegetariano praticamente vegetariano un sugo buono era buonissimo era pomodoro e piselli sì sì con la pasta al luogo però quindi mi dicevi Dani Matteo doveva comandare tutta l'Italia così era migliore eh magari chissà quanti altalini avevo messo tutte le strade io per fare l'altalini ma Dani è proprio un tifosi d'oro eh Dani grazie grazie se io vincio il suo prenalotto a Dani a Enrico 50.000 euro a Dani che compro un camper a Enrico 100 lui la mosa che ce l'ha sponsorizzato fanno 100 200? oh Adè 200 milioni d'euro adesso è la mosa sì questo è quasi 300 forse 300 sì forse 300 sì io gioco due colonne da tre anni sempre due colonne sempre quelle tre volte a settimana ma perché Dico perché secondo te prima o poi esce tanto deve il costo non è non è nemmeno c'è qualcosa che non te cosa perché non è possibile che ne stampa mai beh no non inizia ah sì e chi li vincerebbe lo Stato no è organizzabile mi sa che un roserico te li do te li invito grazie tu mi tieni in considerazione certo mi fa piacere 400 milioni 200 milioni di euro o 300 milioni un milione basta ma magari a me mi basterebbe una tipo station wagon usata da 3-4 mila euro usata no perditevi no la Tesla non vuoi la Tesla no 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 tuo figlio piace la Tesla no 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 tuo figlio piace la Tesla gli piace però non gli ne frega da vencerla il figlio piace i trattori è giovane è giovane lui è praticamente lui piace i trattori capito l'agricoltura il ciandire gli piace un po' ciandire si vince un sopranalotto gli fa un ciandire lo metto sopra lì e lo viva sa quanto è con l'aria condizionata eh col seggiolino piccolo laterale Matteo il 26 novembre vincere il cicatranalotto magari ah già ce l'ha data è un amico di famiglia è di Pergamo eh sì sì oh Charles se va il video di Matteo sono belli i video di Matteo sono belli fessi porca trota poi sono anche un fan di Bergamo Alta perché è un bellissimo posto quasi montano mi ricorda la montana è un decò dove vivono tutti i pazzi scatenati eh Cristina cosa avete mangiato non ho detto che hanno però ah ah vedi ah credevo un famoso pensa perdo un po' che ricorda cosa pensa un po' però invece una vecchia una vecchietta a Cuba a me e Luca no quando eri Mirà una ma 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 però io non volevo che me la leggesse perché è superstizione capito è tutto tutte porte che tu apri all'inferno però in con me me la legga senza la mia autorizzazione però era una vecchietta che era un'amica di quella che ci ospitavano di cosa di Damari Maria la moglie di Julio Maria si chiamava? la moglie del Ziolino la moglie del Ziolino la moglie del Ziolino la moglie del Ziolino la sua moglie del Ziolino però la moglie di Julio allora lui ha visto un trama mia che ho una vita lunga più degli altri e ha detto che entro 5-6 anni avrei avuto una fortuna grossissima ecco arrivato allora stanno adesso vedi amici sul perenalotto cosa aveva? mi sa che già ce l'ho vota la fortuna grossissima che già sopravvivemo già una fortuna con tutta sa siccità tutto su chimica così schifo di cielo adesce fuori il film si cita che si basa su dati scientifici l'hai visto l'ho visto le pruine eh Giorno da cosa ha detto? non gli frega niente a Giorno a me mi piacerebbe andarci a vedere io non vuoi più al cinema da quant'è? 10 anni? da quando è morto zio male? da quando è morto zio la sera che è morto zio l'ultima volta che sei andato al cinema sa Giorno che tu hai? cos'è muo visto? 9 anni fa 9 anni fa allora 10 anni ho detto ciò che ha fatto ma mi ha piaciuto un po' il caffè nello più di quell'altra volta oh sì l'altra volta ha piccolo cucito sì stavolta perché c'era Enrico un po' di dio ti ha messo? no era tanto il caffè non ce l'è poco ah il caffè non ce l'è poco non lo sa poco ma buono non li pigli mai in tele macchinette degli ospedali no? non ti piace? è meglio il caffè al bar? è vero ah il caffè meglio non lungo corto meglio un prego il caffè è poco bravo ok Enrico cos'è poi per caso dal monumento a fare una passeggiata un attimo qui a Castelfidato il monumento nazionale per le Marche dove c'è Vito Padre non è che vai lì oppure vai direttamente da Roma te ne vanti fammo due passi così parliamo un attimo quello che mi devi dire qualcosa vabbè vabbè due ore e mezzo sì due ore e mezzo durava il video un'altra volta la live un'ora e mezzo il video due ore e mezzo è successo sarà zomba sarà zomba tanto è un'anziana perché c'è un giallo del mio nonno il padre del mio padre c'è un giallo sotto c'è una seconda moglie che lo maltrattava sempre lo trattava sempre male gli emenava addirittura gli alzava le mar allora non si sa come è possibile come ha fatto ad andare all'ospedale senza che ha chiamato l'ambulanza e ha detto che è venuto un infarto dentro casa gli hanno trovato tutti gli ematomi in te la testa un brignocolo grosso chi ce l'ha portato all'ospedale come ha fatto ad andare a Piala Scensore se era morto se era morto di casa chi ce l'ha messo in te l'ascensore colco l'ascensore era piccola in piedi l'ha messo come ha fatto capito c'è un giallo solo che là poi si è lasciato perdere ormai è passato in brutta si l'ho lasciato perdere però è scomparsa dalla circolazione o alberica non si sa nonno pacifico questo per proposito del nonno come è andato a finire è andato a finire che allora la Cesena fa l'urdo ma ma il nonno si e dopo quello lì è andato a finire che l'ho portato io l'ampolla l'ho portata al cimitero del castello e quell'operatore che l'ha preso l'ha preso l'ampolla l'ha aperta con il sigillo l'ha aperta l'ha buttata l'ampolla l'ho portata a zia Rita che ci ha piantato un fiore dentro l'ampolla ci ha messo un fiore perché l'ampolla 50 euro quel pezzo del ferro del bordo io praticamente volevo sapere che fine aveva fatto allora è morto l'ampolla l'ho portata l'ho portata perché la due non sa come passo come passo un passo c'è stato il cimitero non c'è stato pago però è una cazzata perché una volta che tu fondi un morto 1600 gradi non c'è più c'è solo la terra il terriccio sì invece a Dani la materna è fine a fatto Dani la niente non hai visto la foto non te l'ho mandato la foto la foto del zia dopo che fine ha fatto la fine è che è l'anello sario o gli hanno fatto la torpetta cosa ha fatto allora il fratello devi ingaggiare Mario il fratello cioè quindi non si sa la mesa dentro una scatola cuscita allora l'ho portata l'ho portata al deposito degli ossi sì davanti a mesa dentro un locuro cosa ne so l'ho portata manco ma non hai detto niente a me no di l'anni fuori ti metti il deposito di un deposito temporaneo sì dopo da lì devi decidere se andando all'ossario oppure se andando all'ossario nel fornetto non lo so il fratello cosa vuole fare il fratello io so solo per Mario non ha voluto vedere il testio con la mandibola e i capelli no la mascella cioè i capelli pare una barrucca sì strano i capelli sì si era tutti si ma si è assorbita la cassa la casa non c'era più perché io quando l'ho seppellita anzi ho messo una rete intorno pure la rete la rete ha fatto umidità condensa e si è assorbito la rete ma io voglio dire tante volte nelle aree archeologiche nelle necropoli scavene e tirano fuori ancora gli ossi le persone che hanno i piedi hanno i piedi i bracci le gambe la gabbia turacica tu duemila anni allora ormai quest'anno ho perso il mondiale quindi non te dono niente l'anno prossimo se riesco a vincere il mondiale e se ci abbiamo ancora un occhio sia io che tu ti farò una donazione che ti farà venire sudarelle a ghiaccio e i principi di svenimento ma tanto sa quelle d'alile che ho in squadra perderò di sicuro come ti ha detto il tabaccaio tanto perdi sempre eh c'hai ragione Charles è vero nel 2009 con il tabaccaio te l'ho detto tante volte non te lo raccontava la storia il tabaccaio l'assù che io avevo fatto 6 perché zio Alberto che notte mi ha dato i numeri invece la smarca non me l'ha ha detto tanto perdi vai a piare i soldi incontanti tramite banco quando ritorni te la smarco quando sono tornato siccome c'era una diversamente abile che c'ha avuto tanto tempo mi c'era bloccato il banco ma non lo so quando sono tornato quello ha detto ma è stato chiuso ricevitoria ormai tanto non avresti vinto lo stesso invece qualora invece sono andato a casa te erano vincenti 48 milioni di euro però lo stato dopo si è piava al 30% e quant'era? comunque era 30 milioni 30 milioni di euro 30 milioni di euro a storia un po' c'era armato non sa a forza da aiutare tutti pensavo che c'era armato poco però allora Babu le bestelle se l'ha empappato no io voglio se trovano i corpi gli ossi ma quella volta nel tempo dei romani nel 2000 anni ancora si conservano i ossi dalide no li imbalzamavano i corpi quella volta li accusavano tutti intorno ci mettevano le benne le toppe comunque la carne no però gli ossi si conservavano i dalide in 10 anni c'era quei ossi questo è il sagro si si ah si si c'è la forza mamma mia poro sanno dove era sanno caldarò e il coso del sandro il ristorante del sandro caldarò ma certo quante volte ci sono è stato a prima pureto pensa un po' si si tanto la sua è passata di 6 anni ma è manco qualche volta allora è stato lì tutto buono ma eri piccolo oppure anche dopo ci si no no ah ah in vacanza in vacanza andavo lì a dormire ma già a morire eh lo sai Enrico che adesso stanno a sistemare il castello vedi le pallotte ma sì stanno a sistemare tutto ci vuole un sacco di soldi ho rotto un sacco di roba mhm meglio allora questo coetino invece le roglie non si è consumate pure i ossi cosa su un crato tutto tutto una cosa incredibile di 10 anni poi non ha manco di tempo ti ricordi che il suo Alberto lo dovevi tirare fuori un giorno poi l'ha tirato fuori dopo 17 anni 17 anni eh dali subito forse lì passati in 10 anni l'ha tirato fuori e non c'era qui niente adesso sono curioso fraguanti che ti ha fuori al mammo cosa c'è il mammo che c'è sarà più ti ricordi in 3 mesi non ha mangiato qui niente era uno scheletro tutta morfina no per vedere se gli ossi c'è giù no c'è sarà il teschio sarebbe da farsi una collana se è il teschio del zio andai in giro però scherzo ma Ruffini ti presta una cassa per fare il video dentro non è che me la presta vado dentro il magazzino o quanto tu ce vuole ce n'ha 500 le case da morte non è che me la deve prestare capito vado io dentro il magazzino potrei fare un video lì c'è un problema c'è quale te ti piace no non mi ho detto niente non lo vedo mai sta sempre a Napoli a Napoli si commercializza le piante le casse guarda che quello è un personaggio anche le piante il vero è bravo è pulito un uomo pulito bravo corretto un uomo bravo vedi è venuto via dal settore pompe funi però è rimasto sempre nel settore morte per forza perché tanto che il lavoro lì non tutti lo vuole ne fa capito chi è che c'ha voglia da commercializzare le casse da morte pochi ce ne avresti io sì proprio che commercializzare arco i morti in piro un tempo in strada con i pompieri però purtroppo non si vuole fare devi avere c'è vent'anni devi fare la gavetta devi studiare gli anni per esempio per venire incidenti stradali per il marcello sì basta però che fanno un contratto buono che problemi c'è tanti non sono incapaci perché basta che vede il sangue già vomitene esatto avete le robe sparnicciate apposta per questo c'è bisogno tanto coraggio io perlomeno non intendo che è il coraggio però c'è chi ha che è il contatto ma si si i corpi carbonizzati lo so si si lo coglio su tutto come quello che ha che ha riassumato la zia Dalila cuciva la rete tirava su tirava su lì e fregava sì ma te un conto no io ti un conto te lo farò morto dopo dieci anni che tante le conto certo conto fresco dell'incidente stradale non so e ti piace pure quello a te non è che mi piace a vedere cioè non è che mi piace che la gente mora assolutamente mi dissocio però mi dispiace speriamo che non succede mai però purtroppo succede sempre c'è sarà qualcuno tanto c'è sempre qualcuno vedi per esempio Valeani Mario per esempio Enrico è un carrozziere qua un carrozziere molto importante e c'ha un furgo che va a pulire le strade degli incidenti e va a cogliere su tutta la roba e loro è abilitati c'è due che cogliere su proprio anche si autotizzati ne hai fatto un corso per cogliere su una roba i resti organici i resti organici c'è proprio non so quello c'è il video del fuoco di che lo può fare un normale il carrozziere esatto no il carrozziere può cogliere sui prezzi esatto i carabinieri quelli lì della i carabinieri sì sì voglio che poi sui prezzi è vero è vero che io qua esatto siamo sì sì la scettiva c'era proprio qua la scettiva sì dopo Paolo esatto quando lavoravo al cimitero certo certo c'hai ragione c'hai ragione però quando lavoravo al cimitero c'era mio collega da lavoro napoletano era uno dei principali ero in in tre lui e mi ha detto che lui doveva fare un corso da 800 euro una volta che faceva il corso pudeva stante l'obitorio e andà prende anche il coi e poi vigile del fuoco però devi fare un corso capito un conto che invece ti devi fare un porto dopo dieci anni tanto quello è decomposto però se tu lavori al cimitero lo porti da fuori certo ma Paolo perché metti dal bianco al nero i tovaglioli la sera la sera è decomposizione di più la sera è decomposizione di più facendo il mio collega che lavorava sui pochi formi tanto ci va chiamano però è quanto fa dei corsi anche psicologico perché non è tutti i capaci poi fai tutti i corsi, poi sei morto sul mare fai tutti i corsi, poi una volta fai tutti i corsi, una volta sono le palle e lo so, mi ricordo Alberto, tanto Matteo, se provi la cassa non credo che si potrebbe lamentare l'utilizzazione finale che ci bucca dopo di te definitivamente insomma non si è mai lamentato nessuno di essere messo in una cassa che è stata trovata, è vero, è vero D'ora dico, quale TG ti piace di più? E poi una volta non hai fatto quello che ti ha fatto, G5 Scusa, anche Pietro l'ho fatto per perdere il camion ma il birro lo vuoi, chi? Il botello, io sono un altro più grande il camion, il birro, il prezzo ogni merce che porti ci vuole un patentito e paghi, porti la frutta porti la verdura, porti gli animali porti l'azoto, porti la benzina per fare un patentito ogni cosa che porti deve specializzare un po' di più di una cosa Perché tuo fratello tutto ne ha presi i patenti? Invece una volta, capito? Una volta piavi, portavi tutto con il gatto Certo Invece ogni settore ha scassato Una volta basta che c'è la patenti? Sì, adesso Tu fratello porta il birico? Sì Non fa problemi così fa che piace così da una mano Porta la roba dei frutti sulla roba Porta la merce Porta anche di me In ogni settore c'è la patentina Infatti c'è uno che c'è in casa che porta anche una roba dei fileni Quello c'è sicuramente c'è un patentito che porta i polli Ho visto? Ho visto il camion e non mi non si lamentano di come li tratti Lo so Io mi ricordo di mio padre quando ha vestito con un coso di anzio Alberto ha detto che l'ha vestito fare un manichino Faria proprio una bata Babbo tu ha vestito Sì Babbo ha vestito anzio Perché? Perché era morto gli è servire una mano al vecchino e ci ha pensato il babbo Ha detto come lucira fare proprio un manichino Sì Si Se sengorisce no No Rimane Rimane Ma niente Ma vabbè Questi discorsi non è che piace a tutti A me sì perché sono appassionato dei zombie Però Allora Dente buco di Ucker Tu faresti il cassa mortale? No Io no Te no Paolo No C'è un pelle No Sì Anche come una volta che era quella cusura verde volontaria da tanti anni fa non c'era niente Adesso devi fare così o tu scherzi Eh sì No Adesso ho visto ero volontario Andavi lì Non piavano lì la propria c'era C'era il bello Adesso ti fa percorso Ti sta accassando Tutti i corsi Ma poi dopo dipende Cioè dipende se fai solo l'autista oppure Anche fai da uguale E qui in ambulanza Se avrei capito Oppure uno sta solo lì al centralino Lì Però quando vai all'intervento E poi ti fa uguale E no a studiare Non andava C'era bisogno dei quadrini suonati in fabbrica Vedete La passione per i zombie te l'ha trasmessa mamma Mirella No 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 Mamma Non c'entra niente Mamma perché pregava per i moribondi Da quando andava pure in dei ubbitori a pregare per i zombie Sì Quello è vero però ognuno di noi siamo fatti diversi diversamente Quindi Sai cosa devi andare a fare un bel video L'indale in Romania e questo è il drago Ah Che è da confederlo Perché? Fa un bel video lì che è finissimo Eh Gustavo però non c'è il sponsor Ma non ce l'ha fatto già a Fracchia lì Fracchia quanto Racco Ce l'ha fatto qui Tu Ma te Ci vuole il money Ci vuole Guarda che viaggi metto questa data In Romania è una cavolata Perché? Con l'aereo Spende l'offerta cosa spende? Con il pullman Con il pullman Con il pullman Se c'è i voli che spendi il pullman C'è problema Ma il pullman spende di più con il pullman Eh certo Poi Nel giorni Quanto costa fare l'offerta con l'offerta con l'aereo? Ma quando è un bel lo trovi anche di cena Dai veramente Con il pullman Con il pullman Con il cuore Con il pullman Con il cuore Con il cuore Con il cuore 19 E quant'è che dicevi? Sono andata a novembre Ho pagato 60 euro e ho dato il torno E no miseria Però da pure su come fai? Cioè Tu che sai la lingua Io non so niente Come fai? L'inglese Da noi In Romania C'è 90% della popolazione sa l'inglese Non sapevo C'è pure italiani C'è pure italiani Io perché Ho tanti amici romeni Però Non è che Penso Andar su Andar lì A trovare Stanno tutti Qua giù A posto Non c'è Vai A 20 anni Siamo Ah ecco Tanto Più o meno Il periodo Delle vacanze La maggior parte Va ad agosto Ma se uno Prende l'aereo E scendi dove? Per andare in Transilvania Tu fai A Bucarest Sì Per forza Tu abiti a Bucarest No Io abito a Brascio Dove c'è il Castello di Dragola Ah Ah Proprio lì Proprio lì C'è andata C'è andata mia sorella Col camper Però Col marito Capito A Londra C'è andata mia col camper Lassù Al Castello di Dragola Sì Sì Se siete Di più che guidate Penso che 30 ore Ci siete Eh certo Ma se no Ma allora L'aeroporto più vicino Qual è? C'è Bologna Ti fai Bologna Bucarest Ah Da Bucarest Qua è? Una volta solo Sono partita da Pescara Ma ti parlo di tanti anni fa Non c'è più quel volo lì Da Pescara Può essere che c'è Non so Bisogna vedere Sempre a partita con Ryanair Adesso non ho messo pure da Falconara Però non ti so dire i prezzi Dello in ser Ho capito Perché se fosse da Falconara C'è un cambio A Bologna No È diretto Penso che è diretto Ah diretto Penso che sia diretto Ma dopo Da Bucaresti qualche E c'è distante dopo Eh da Bucaresti Tre ore di macchina Tre ore di macchina Sì Tre ore di macchina Dipende del traffico Tutto Sì C'hanno giù Paolo Di verso nord Di verso nord Sì 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 Adesso l'offerta spendi Come vede con lei No io ho pagato con un bagaglio amaro Non so fare È quello il problema mio Non sapevo fare Non sapevo fare Guardare i siti Pensa un po' È su Ryanair di Bologna Bucaresti E c'è delle volte Che veramente Ti fa inviare sempre le notifiche Sull'email Di quando ci le offerte E lì te lo dice subito Ah offerte Ryanair in Romania Devo scrivere Sì Ho capito Allora è semplice Dracula Ho capito Transilvania Anche quando c'è un amico mio Partita con 9 euro Ma dopo sempre a Buccarest L'aereo Paghi più il treno Da Ancona a Bologna Mamma mia 9 euro per la Buccarest Però dopo dentro Ryanair Ti chiedono da comprare Per forza La roba Sì Anche perché adesso Non ci sono più Da Bologna Arrivare all'aeroporto Non c'è più i pulmini Che ti portano C'è un treno veloce Che è uguale Lo paghi sui 10 euro Pensa Che ti porta direttamente All'aeroporto Ho capito A Bologna Sì Bologna stazione E Bologna aeroporto E 9 euro ci vuole Da Bologna a Buccarest Dipende 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 dai voli Sì Dopo gli alberghi Quanto costa gli alberghi? Che facevano Facevano Un fine settimana Parlavano tra di loro Hanno speso 300 euro Un fine settimana Per mangiare Al bergo Tutto A testa? Sì Ma Si Pensa Sì C'è un fine settimana La Buccarest E' bello Che sono stata pure a Bucca Bene Ho capito Grazie per le informazioni Sì Però da lì Trovi tutto Dove? La gente Parla di culese Non ciò Se vuoi sapere Da noi è obbligatorio Ah certo Perché il rumeno Non è bello Come dicono Sì Difficile da imparare È molto difficile Magari con l'inglese Vai molto più Come stranieri L'inglese è mondiale Parlo con l'inglese è un parlo Con l'inglese è un parlo Con l'inglese è un parlo Eh certo Lo capito Lo capito Però in tanto Parlo di un'inglese è un parlo Grazie Dov'è? 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 Ma come ricordo Giuche Giuche Compra biglietto Solo andate Ah perché rimanirà Eh sì No ma Iperumano Una serata a Bucarest Per Giuche e Matteo Che spettacolo Eh Gusteria 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 Però da po' là Come famo Come inglese Noi non sappiamo niente D'inglese È un macello Ciao adesso Matteo Puoi chiedere A Morella Se mi prepara una coliva Quando riparto Una? Coliva Eh Zerfide Matteo Non c'hai bisogno Di andare sui temperti Per i lozzignori Costa di meno Cosa vuol dire? No L'orella Si chiama quella L'orella Buccarini La Buccarina Cialese Matteo Dopo quanto tempo Il corpo morto Si arrigidisce? Poco Perché manco Un tempo Un giorno No dopo 3-4 ore Si arrigidisce Allora Pozza del mamma Il video dentro La casa da morto Farà un milione Di visualizzazioni Con i soldi Ti compri La macchina nuova Che cavolata Che cavolata Farà mille visualizzazioni E no Non essere illuso Il canale mio Più di mille Non fa Dentro comunque C'è deve essere Il corpo L'interno Il cuscino Il Ciacca al legno Voglio dire C'è deve essere Ciacca al legno Si No Se anche ci mette Come stamattina Mamma pureta Ha fatto le lastre Del tavolo Delle lastre Ha fatto male Tutta Le osse Ma c'è Mamma mia Fora male No Voglio dire Metterà Un cuscino Del razzo Dai glielo chiedo Mettaci un cuscino Dammi giacca e cravatta Eh Poi il velo sopra Ti metti Il velo Come E lo sa Il velo Non ci ridiamo Ma c'è poco da ridere Chi ci è stato A metterci a piangere Invece Ridiamo Che meglio E ricordiamo Zio Alberto Con questa bottiglia Blu Anni 90 Ed è un riposo Don Zio Alberto Signore Prende lui La luce perpetua Riposa in pace Allora Alberto A proposito Zio Alberto Dopo vedo E ti scrivo Ciao Grazie A stasera Fine No E salutiamo Adesso Enrico E Camilla E Carlotta Carlotta Oh Mi sono confuso E Carlotta Non ti incazzare E so confuso Non mi c'è sta la testa Camilla ho detto Sempre Carlotta Carlotta Non mi c'è sta la testa Camilla è il cane No Io non penso Io non penso Io penso solo al nome Perché Camilla E pure Non è solo il cane Il sottocicchio C'è tanti nomi di Camilla Come Don Cam Don Cam Eh esatto No ma Cosa cosa Sì la ragazza di Luca Camilla Allora Ecco A posto Fine Grazie a Enrico Qui per esempio Charles L'ultima Ah ho capito Luca vuoi restare in live No Corre Emblema Ti fa lo stesso effetto Di capo Drummond Corre Comar Si Per fare lo stesso effetto Fine Sì A posto Se non finimo più a leggere le cavo Le cazzate Ecco Ecco Ci vuole tempo A posto Adè famo una foto insieme Staccamo questo E' finito E' finito tutto Anche oggi purtroppo Anzi No L'hiamo portata alla lunga L'hiamo portata alla lunga Sì L'hiamo portata alla lunga E Rigo Si è stufato Si è stufato Non ne pone più Ha perso la pazienza Fine Fine E' finito 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 E' finito